Siamo a Pesaro, al centro La Fenice. Qui con noi c'è la dottoressa Stella Primari, pedagogista clinico e psicomotoricista funzionale, che ci parlerà del convegno La Tavolozza dell'essere. Questo convegno nasce dall'unione di cinque professioniste. Il nostro intento è di far conoscere le nostre tecniche. In particolare c'è un'illustratrice, una grafologa, una psicoterapeuta familiare e una psicologa. Il convegno si terrà il 18 novembre al Urbino Resort Santi Giacome Filippo e si inizierà al mattino fino alla sera. Il convegno si dividerà in due parti. La mattina ci sarà la parte teorica, dove ogni professionista spiegherà quello che fa nel suo ambito lavorativo, mentre il pomeriggio ci saranno dei laboratori specifici proprio di ciò che è stato spiegato al mattino. E a chi è rivolto? Questo convegno è rivolto a tutte le persone che vogliono conoscere meglio se stesse e quindi acquisirsi una maggiore conoscenza interiore. E quale sarà il suo intervento? Io parlerò dei quattro metodi per esplorare meglio se stessi. In particolare spiegherò che cos'è la pedagogia clinica, cosa tratta la psicomotricità funzionale, il disegno onirico e lo psicodrammo olistico. Mentre al pomeriggio il mio laboratorio parlerà di disegnare e drammatizzare con il cuore. Il mio intento è di far capire alle persone che ognuno di noi ha un proprio talento e oltre al proprio talento non dobbiamo seguire sempre solo la razionalità, ma abbiamo all'interno di noi un'empatia particolare che possiamo conoscere meglio le altre persone e anche noi stessi. Quindi un po' a riscoprire se stessi. Sì esatto, proprio una conoscenza interiore. Grazie per l'intervento dottoressa Stella Primari. Grazie a voi.